Sono Gilberto Belli, che assieme a mio fratello Giampaolo portiamo avanti una tradizione di macellai salumieri. La nostra azienda nasce circa 200 anni fa. Noi ci siamo impegnati principalmente a produrre dei prodotti del territorio, che è molto importante. Noi siamo produttori slow food della Luganica. Cosa vuol dire questo? Che come produttori slow food ci siamo imposti un disciplinare molto rigido. Tanto è vero che dobbiamo macellare maiali trentini, creare una filiera corta e produrli senza nessun additivo. Quello che ci ha permesso di farsi conoscere alle nostre clientele sicuramente è stato il negozio, che per noi è una tradizione, come dicevo, che dura oramai da secoli, possiamo dire. Abbiamo trovato delle persone con le quali collaborare molto valide e che hanno recepito che anche loro, che il prodotto del territorio, il vero prodotto del territorio, va valorizzato. Per noi è con grande piacere, anche tramite le co, portare in giro il nostro prodotto anche nella grossa distribuzione e poter dare la soddisfazione del palato anche a gente che altrimenti non avrebbe mai nel nostro negozio. Grazie. 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 Grazie.